Bentornati ragazzuoli che è il vostro amice, oggi siamo sull'ultima puntata di Sniper Elite, credo, quindi cerchiamo di farla abbastanza meglio possibile senza morire tante volte, cercherò di non farvi tanti tagli, logicamente se è come l'ultima che ci ho messo un'ora, non sono costretto diciamo a mettere tanti tagli, perché se ogni volta io muoio devo stare lì a tornare sullo stesso punto, per dopo rifarvi delle stesse robe senza tagliare, sarebbe un po' noiosa la cosa, quindi lì c'è il primo, che a sto punto direi di far esplodere anche, vediamo un po', ok di là è l'obiettivo, quindi qua potremmo anche passare inosservati, ma non è da noi, quindi torniamo su a sto punto là, vediamo c'è quello che ho visto prima a sinistra, che non lo vedo più, allora potremmo fare intanto... uh addirittura là, da far esplodere cazzo, vediamo un po', noi facciamo così, allora quella o st'altra? Mamma mia che esplosione! ah due, doppia, però niente kill, ok l'altro si è girato, vediamo se riusciamo a fargli la scroto, niente, eh perché sono io coglione, ah ok, sarebbe meglio ripartire però vabbè insomma, cerchiamo di farciare lo stesso, là, boom, ne abbiamo rotto tutto, non so, si facciamola anche un po' frenetica, insieme a un posto, dove c'erano? uh lì sotto, no, no cazzo ricaricare adesso, da, ok un altro di là, dov'è? noi facciamo così, ok non è morto, ecco lì, fegato, gli abbiamo preso la cosa, dalla granata o qualsiasi cosa che aveva addosso, che figata, uh, uh, scroto, no, cazzo si è rialzato al momento sbagliato, ok, qua abbiamo fatto fuori tutti, mi sa, si, nice, vabbè insomma dai andiamo avanti, qua abbiamo kit medico, sarebbe da cercare di tirare su qualche benda, quello si, uh, no cazzo ci abbiamo anche, altro che ci spara? ah, 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 dolori, tanti dolori, cazzo ci sta venendo, dov'è? e siamo messi malissimo già, concentrati Mitch, mamma mia, ah, ok, boh, eh, ah, abbiamo tirato su una benda, da dove? oh, ragazzone, eccolo là, cioè, adesso no, addirittura si mette a culo, quindi noi cerchiamo di sparargli dove crediamo che abbia le palle, però siccome che gli uomini di questo gioco hanno le palle diverse da noi, che sono messe, non so neanche dove, guardate, si cuccia, e più o meno ha le palle lì, no? e non si c'è nel cazzo? non so io vabbè, torniamo indietro cazzo ce ne sono due là in fondo ok cerchiamo di killarli da qua, passiamo a posto dove sono? due addirittura, ok ah, ok, là eh, ma cazzo però c'è anche eh, facciamo esplodere adesso, eh dai oh boom che problemina no, eh, cioè, non mi ha capito ah, è là sopra che coglielo ok, là, 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 là lì bom eh, ma sono ancora vivi quegli stronzetti però, eh eccoli un giorno sarebbe da provare adesso non credo, lo farò in video, però fare una missione ah, che dirà senza hub, senza mira, senza niente proprio come se fosse un simulatore di cecchini, capito scrotto niente vedete cioè non è possibile sta roba qua riesco a vederlo gn 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 dove sei? eccolo mmm, l'altro nice dov'è? clavicola? no ok buon finiti questi qua mi pare, no? spostiamoci un po' oh eccolo là nice quindi chiediamo quello cazzo che pensavo si muovesse dai mori oh testicoli no niente ok si può salvare? no, non si può così sì sì ok là adesso l'obiettivo nostro è di là eccoli eccoli uno testicoli e niente madonna di dio dai vieni fuori eccolo eccolo uh mamma abbiamo rischiato qua eh c'è un altro sì dove sei? eccolo oh è un altro fuori giusto? no mi sa che è morto eccolo eccolo mori mori madonna da ok abbiamo killato tutti possiamo andare avanti adesso l'obiettivo se ci viene fuori magari riusciamo a sparare a qualcuno là in mezzo c'è nessuno? oh là in fondo cazzo merda oh madonna mi abbiamo fatto fare un backflipper ragazzi meno prima di morire ha fatto qualcosa di spettacolare ok e missione attacca il campo ok qui là 63 metri ah no qua dentro là no disattiva tutto interagisci là eccolo ecco là cos'è secondario facolti attivi come devo fare uccide tutti gli operatori nella torre di controllo ok ok non vedo un cazzo qua dentro c'è vediamo un po' no no qua niente oh 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 non è morto non è morto nessuno ah ok abbiamo questo e questo no ci addentriamo là eccolo 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 l'altro dov'è eccolo va qui dentro cosa c'è va come si è crashato munizioni ok e munizioni spero ok nice di qua la porta azzurra che cazzo c'è di là in tre porcellini e dupe forse è un modo per arrivare prima no non ho questo forse è un modo per arrivare prima all'obiettivo non so infatti prima ho visto che c'è stata una porta che si è mezza aperta però non sapevo e in fondo un'altra vai prendila oh boom ma cazzo come hai fatto a non esplodere vabbè intanto l'abbiamo beccato in testa va cosa fai quei gesti ce n'è uno qua però prendilo prendilo nice si guarda un attimo il cadavere bravo ok cecchino ancora nice è sopra la macchina però non è da noi comunque e ci dice di andare di là ma non so se è sul piano sopra o sotto vediamo di qua cosa c'è altri ancora no ce n'è uno di là ho paura vai e vai sono qua dentro i prigionieri eccoli qua ciao bambini ma come cazzo sono messi guardali che problemi avete non so io vabbè quindi ce ne saranno altri di qua da quello che vedo si ok no ma veramente come erano messi cazzo no però una mappa con giusti la fabbrica ok e adesso fino a dove piazza piazza di dov'è no no cazzo tieni un buon punto di soluzione e copri l'avanzata del ok ragazzuoli allora prima abbiamo chiliato sti ma però c'è sempre il coglioncello lì fuori che ci rompe le palle oh è andato via il carro armato cazzo è abbastanza grande non come i carro armati l'altra volta ok però ci disumano lo stesso oh qua dentro ce n'è uno no 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 questo eccolo eccolo là eccolo là oh mio dio là sopra c'era un altro di uomo l'ho visto correre eccolo cecchino di merda prendilo ciò ci fotteva quello lì eh anche da là uh bomba no chi mi ha visto chi mi ha visto eccolo dove sei dove sei dove sei a di là ai 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 nice ok siamo messi male cos'è che facciamo questo per forza eccolo eccolo quindi abbiamo fatto la cosa giusta sì che là c'è il coso se noi lo miriamo col cannocchiale perché dobbiamo sparargli lì e là però se noi tipo facciamo la roba di sto genere da dove cazzo uuuu muori stiamo usando anche le altre munizioni cazzo va facciamo così a sto punto va questi cecchini del cazzo ok ricarica adesso almeno sappiamo dove dobbiamo sparargli quindi da dietro ok bomba ma di far scoppiare giusto o no sì distrutto là e qua là ok adesso prima salviamo proteggi i uomini da gi 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 dove sono gli uomini da gi 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 sono quelli da chi devo prote... ah era questi qua un andato un altro andato eh ho capito io st'altro ecco 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 un andato l'altro anche l'altro anche l'altro anche madonna ok però lì è con noi o conto da di là c'è qualcuno ah eccoli eccoli via uh due mamma mia uccisione doppia volevo vederla questa da mezzo napoli era già morto ecco un altro che muore subito un altro che muore un altro che muore un altro che muore non in quanti sta morendo adesso poche munizioni boom eccolo 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 ma è stato il telefono madonna quanti grandi cazzo dovevo killare eccoli eccoli ci sono munizioni da mettiti di nuovo gustazione mettiti di nuovo ok non si mette vabbè spariamo lo stesso via uno via due no e muori ah perché non muori ragazzi chi manca non riesco a capire se se è vivo o morto finiti già ok ok fatto elimina tutti i veicoli tedeschi prima quello allora facciamo così da boom uno dovrebbe essere distrutto ok ci manca il caralmatone solito del cazzo che quello lì non so come faremo però vabbè quindi mi sa che è tipo lì no 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 neanche neanche ehm ok come prima facciamo allora facciamo prima eccolo ok preso poi munizioni queste qua diamo priorità anche un armato dai che ti sei girato cazzo cazzo la una è andata però non è esploso mi sa si sta mirando ok eccolo no 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 madonna riusciremo mai a prenderla adesso ok così e perché non esplode addosso boom preso non so a quanto possa servire ma vabbè quindi ok lì c'è uno dove è finito di là ok hai visto 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 bravo ok adesso poi andiamo addosso alla dinamica oh c'è un mozu per qui nice due addirittura vai carica boom uno andato nice quindi salviamo e spariamo nell'altro colpo all'ultimo boom scrotto scrotto tang dai che ce l'abbiamo fatta anche un gem male deve essere uguali ma non ce l'abbiamo fatta vedere comunque scotto qui allora considerando là in fondo andiamo oh cattiveri equis oh boom distrutto anche lui ah c'è un uomo intanto eccoti eccoti allora voglio farti la scrotta a te fermati allora più piano così va fermati su un posto eccola 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 che cazzo fa niente ah ma forse forse ci prego nel culo e poi no niente sta bene comunque nel culo gli è andata che devo fare adesso andi là ok corriamo via raggiungi il punto di rocket nice giorno signore bel lavoro nice job finito così il demolitore popcorn in mano coca cola o birra non so dipende dai vostri gusti ci guardiamo al finale andiamo eccoci siamo al capolinea ah non era mica la missione finale scavato nel fianco del canyon di mides inusuale per una fabbrica ma gli strapiombi mi aiuteranno a nascondere i corpi è ora di distruggere il ratte e tutto l'impianto non era la missione finale la storia è questa la missione finale cosa del genere devo eliminare del tutto le linee di produzione dalla mia avrò diversi punti d'osservazione favorevoli e quando avrò finito ok quindi è il vostro vedete che tanto con un colpo in testa oggi se il video di oggi vi è piaciuto lasciate tante posizioni in su commentate e condividete ci vediamo all'ultimo episodio la prossima volta su sniper league 3 ciao a tutti ciao a tutti